Ciao a tutti ragazzi, sono Ben dello staff di Ultimate Team FIFA Italia e sono qui con un altro video sulla compravendita, l'ultimo video sulla compravendita che abbiamo fatto ovvero quello che vi consigliava, in cui vi consigliavamo di acquistare diversi giocatori della Bundesliga è andato benissimo, ma non è andato benissimo solo il video, cosa che comunque ci fa piacere, ma è andata benissimo anche a voi la compravendita, infatti in queste clip che vi sto facendo vedere in maniera abbastanza veloce, testimoniamo quanti crediti abbiamo fatto fare e quanti crediti abbiamo fatto anche noi, grazie a questo metodo semplicissimo, facilissimo da sviluppare, ovvero si sa che venerdì esce un TOTS di determinato campionato e già lunedì, domenica, la domenica prima e lunedì prima si cominciano ad acquistare i giocatori, i giocatori che serviranno insomma per fare compravendita e come avete visto la maggior parte dei giocatori che vi ho consigliato sono saliti almeno del 150%, purtroppo ho toppato solo con Luis Gustavo però, alla fine in molti mi avete anche ringraziato, vi ringrazio tantissimo e abbiamo deciso di continuare. Allora, discorso che dobbiamo fare, purtroppo il giochino è stato capito, in particolare dagli utenti inglesi, i quali stanno facendo uno sproposito secondo me, stanno facendo delle cose inutili e già i prezzi di tantissimi giocatori della Liga BBVA sono saliti, però non disperiamoci perché qualcuno nel gruppo diceva, ah ormai è fallito, il metodo è fallito, non è fallito niente, state tranquilli, non disperiamoci. Qui vi sto facendo vedere un esempio, Kakuta del Sivio, un giocatore normalissimo, costa 8300 in questo momento, è una cosa pazzesca, quindi se ce l'avete nel club, perché può capitare di averci nel club, essendo un oro non raro, si trovano a bizzeffe nei pacchetti, vendetevelo di corsa, ci fate 8400 crediti, magari mettetelo a 7500, ecco, lo vendete sicuro. Ma andiamo, come sempre, a dividere i nostri giocatori da investire, i nostri giocatori su cui investire, no, da investire poverini, su cui investire i nostri consigli. Sono giocatori che comunque si prendono sempre a prezzi bassi, quindi tranquilli, mal che vada, li rivendete comunque allo stesso prezzo al quale li avete comprati. E poi ci sono alcuni argenti rari, che sono molto attraenti, diciamo, ecco. Allora, Rodrigo, è già salito, tra l'altro, come vedete sono saliti tutti, purtroppo, però secondo me salirà ancora, fino a due giorni fa si prendeva 750, adesso è salita a 1.700. Però, secondo me, si può investire su Rodrigo, che tra l'altro è un giocatore buggato, fortissimo, vi consiglio di utilizzare, e secondo me salirà almeno di altri 1.500 crediti. Poi, Alilovic, giocatore che ancora si prende a 800, o almeno si prendeva 809 ore fa, che diciamo piace molto perché, sappiamo, ha avuto questa prezzi da 73 a 77, un giocatore che piace molto, considerate il nuovo Messi, diciamo, e che secondo me salirà. Quindi, questi sono tutti investimenti a basso rischio. Inigo Martinez, uno dei pochi difensori centrali, sia veloci che fisici, della BVVA, che si prende a 1.400, secondo me anche questo salirà, non tantissimo, ma salirà. E poi andiamo con gli argento. Attenzione perché abbiamo un trio che attrae moltissimo, soprattutto gli utenti stranieri. Come vedete io ne sto prendendo tantissimi, ecco, ne sto prendendo tanti, cerchiamo di prendere questo qui anche. È un trio formato da Odegaard, Martin Odegaard, Mastur e Mounir, come avete visto prima. Tutti giocatori argento rari, che vanno presi a 1.200, 1.100, 900 all'asta, se riuscite, con tranquillità. Infatti, se non sbaglio, l'ho preso. No, questo non l'ho preso, però li sto quasi per vincere tutti, diciamo. Quindi giocatori che si vanno tutti presi all'asta a questo prezzo, secondo me almeno di 1.200, 1.300 saliranno. Mal che vada, si riescono a vendere, voglio dire, poi a 900, 950, perdete un minimo dell'investimento, ma sono tutti investimenti piccolissimi. Appunto lui, Mastur, perché ha 5 stelle skill, e Mounir. Mounir che nel frattempo vi spoilerò tutto. Ecco, eccolo qua. Giocatori che, secondo me, attraggono molto, soprattutto certe fasce d'età. Poi, ho puntato l'attenzione su Atsu del Malaga, 950, che può essere un C.O.C. di quelli che piacciono i bimbi minchia, molto veloci, con 67 di tiro, ma vabbè, lasciamo stare. Preso a 950 un paio di esemplari, diciamo così, saliranno, secondo me. Capitolo portieri, 2A, sui quali dovete investire per forza, ragazzi, Ter Stegen e Keylor Naus. I due portieri del Barcellona e del Real Madrid, che saliranno, secondo me, tantissimo. Attenzione a Keylor Naus, prendete quello upgrade, perché quello non upgrade, quello base, è non raro. Quindi, questi sono tutti i giocatori sui quali investire a basso costo e a rischio minimo. Però, per chi volesse investire di più, ho dei suggerimenti più alti. Ad esempio, Jordi Albe, il difensore, il terzino più veloce della BBVA, gioca nel Barcellona, molto forte, devo dire. È già salito, ma potete, non di tantissimo, potete provare a prenderne qualcuno. Ripeto, però, questi sono i investimenti più rischiosi. Se perdete i crediti con questi giocatori, non è mia responsabilità. Non è mia responsabilità in generale, però, in questo caso, ancora di più. Altro esempio, Enzo Perez, l'unico centrocampista centrale che, secondo me, a livello difensivo è veramente completo. E, si prende a 2002, secondo me, sale molto. Varane, difensore centrale, fortissimo, francese, che è pure veloce, piace molto, soprattutto in Inghilterra, salirà molto. Pepe, che è più odiato, a livello, diciamo, per il comportamento, ma su FIFA è veramente forte. Si comincia a prendere ancora a 2007, quindi provate. E poi abbiamo Laporte, che già sta salendo, come vedete, sta salendo, ma Laporte, un altro gran bel difensore veloce, sempre lui francese, sempre la Liga PPVA, anche lui, anche su di lui, investite. Attenzione, Carlos Fela. Carlos Fela, giocatore baggatissimo, forte, 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 4 stelle skill. Sale, sale come non so cosa, sale come un cocktail, una cosa incredibile. Quindi prendetelo e investite. Attenzione alla sua versione attaccante, uscita in occasione dei 7 anni, il compleanno di eFoot. Attenzione, se ce l'avete nel club e l'avete presa pochissimo, potete rivenderlo. Però su questo non investite, investite sulla versione AD. E poi i due investimenti più grossi, che sono Griezmann, Upgrade e Benzema. Si prendono ancora a un prezzo decente. Secondo me questi, subito dopo, c'è venerdì stesso, questi qui, come è stato per Abba Mayang, venerdì stesso costeranno 20.000. Lui 21.000, lui 22.000, 23.000. Quindi, attenzione a questi investimenti che sono più pesanti e potete rischiare di più. Altri consigli che vi volevo dare, così evitate di scriverlo nei commenti. Allora, vendere questi giocatori da venerdì a domenica. Quindi da venerdì, venerdì 20, a domenica 22, vendete questi giocatori. Non chiedete ragazzi quando li vendo, aspettate la nostra risposta che non arriverà, perché noi lo stiamo dicendo qui nel video. E poi perderete l'investimento. Fate da venerdì a domenica, massimo lunedì. Qualcuno mi dice, ma però questi tornei sono carini, perché alla fine fanno vincere un TOTS, in effetti io ho vinto Sanè per esempio. Ma voglio temporeggiare, quanto posso vendere, farmi comunque una squadra decente. Allora, la squadra avete già fatto tardi per farla. Comunque, cercate di farla adesso e cercate di vincere il torneo subito e sempre da venerdì a domenica vendete i giocatori. C'è da dire un'altra cosa, ragazzi, io ho vinto il torneo Bundesliga con una squadra di oro non rari, con Kagawa Sif messo lì. L'ho vinto allo stesso, il torneo è questione di culo per me, è di script. Quindi potete vincerlo anche senza avere lo squadrone. Che vi devo dire, magari guardate anche il premio. Se vi mettono, che ne so, un giocatore dell'Atletico Madrid che non vi piace, un Saul, è inutile perdere tempo lì a fare il torneo. Quindi state attenti a queste cose. Altra cosa da non sottovalutare, andate a dare un'occhiata al vostro club perché sicuramente nei mesi avete acquistato tantissimi calciatori della Liga BVVA e poi degli altri campionati e o li avete utilizzati o non li avete utilizzati. Andate a darci un'occhiata. Ecco, questi sono tutti i giocatori che già vi trovate senza investire. Sono crediti sicuri, li vendete ora, fra una settimana li ricomprate se li rivolete, alla metà. Quindi questi sono tutti i metodi per fare i soldi, per fare i crediti con la Liga BVVA in questo momento. State tranquilli che non si rischia tantissimo. Noi comunque ci rivedremo in questa settimana per parlare di tantissimi giocatori della Serie A e della Liga An con i quali secondo me si faranno ancora più crediti.